1, 2, 3, jump! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, ricontinuiamo Abbiamo fatto la speedless La Ferrari E questa ce la compriamo Non mi interessa proprio Guardate com'è bella Comunque Voglio scusarmi perché questa cazzo di macchina fotografica Non lo sapevo A un limite di 30 minuti Predatori al vertice La disciplinare comunica che sta espandendo la propria indagine per abuso di potere Su certi membri del dipartimento Il capo della polizia ha annunciato che sospenderà le pattuglie Nel frattempo il Vehicle Response Team dell'FBI è stato chiamato per proteggere la città fino al termine dell'indagine Ora abbiamo un nuovo nemico VRT Ex forze speciali Ex piloti clandestini Di quelli che servono rancore Non giocano con le stesse regole degli spirri Il loro unico scopo è terminarti Uh Per battere il VRT devo essere migliore Più veloce che mai Bellissimo Si sblocca la Lamborghini Gallardo Sono uguali Comunque mi scuso perché questa cazzo di fotocamera Ha un limite di 30 minuti Quindi non è registrato Tutta Tutta la missione piacente E non mi piace questo fatto Non mi sta bene Assolutamente Io direi di comprarcela E di modificarla un po' Ah ma ci sono due livelli Mettiamoci livello 2 E invece Sonda d'urto Se ce la facciamo Mettiamo il livello 3 Anzi no Lasciamo così Veniamo un po' con la verniciatura Nera mi piace Nera mi piace Wow Rossi Stupendi No senza niente Eh il testo della targa stavolta Non me lo scordo Hi tech Guardate come figa Guardate 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 Forse qui ci vuole pure una livrea Un adesivo o qualcosa Ok Che dobbiamo fare Che dobbiamo fare Oro in hot pursuit Oh porca misera Allora proviamo questo L'interceptor Ci troviamo Quindi benvenuti in questo nuovo video Grazie per tutti i supporti Le solite stronzate ormai Penso le sapete già E spero che Facciamo meno di 30 minuti Perché altrimenti sta stronza È stupenda È stupenda L'avete vista Guardatela Uuuuh Bellissima Ed è manovrabile Mi piace Vaffanculo Ma con meee Aia Vabbè Le ruote rosse Sono fighe Cioè Sono una capata Assurda Questo è In fuga Ah eh Qui abbiamo il tempo Ma l'ho dimenticato Vai Che c'è il tempo Dai Yes Nooo Vaffanculo A puttana Di sua madre No Comunque Almeno L'oro Ci viene Considerato Ma dobbiamo fare L'oro Pursuit Ma E se è facile Lo facciamo No perché Non voglio Perdere troppo tempo Appunto Per evitare Che scadono I 30 minuti Di quella Cazzo Di cosa Per chi la volesse Sapere Una Sony HX-100V Vai Siamo secondi Dov'è la prima macchina Ah eccola Mi ha sentito E mi ha risposto Mi sembra giusto No La zoccola Di tua madre Oh Che culo Si è schiantata Nooo Mancano ancora 6 km Possiamo fa' 5 km Ok di qua Non volevo sbagliare Strada di nuovo Come l'altra volta Perché mi ricordi E se Se mi ricordo Bene Qui c'è una curva Pericolosa Ma che cazzo Stanno tutti polizioni Oh 3 km Dai Ma va Come l'hai fatto A capire Nooo Nooo Vaffanculo Fanculizzati Facile Sto cazzo Che è facile Riproviamo La Bohemian Rush Perché credo Di potercela fare Io credo In me Credo Nella Ferrari Ma sta macchina Non gira proprio Cioè per fare Una derapata Del cazzo Si deve premere 3 volte Che cosa Per stoppare Mancano 5 km E 6 E sono primo Non lo sapevo Pensavo fossi Secondo Adesso C'è quella curva Di merda Fra poco No Che curva Mi voleva Far andare A sbattere Ma non sono Stronzo Cioè Oddio Dipende Eh Isse 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 Ma va Ma cazzo Come cosa Ma andate a cagare Voi è sto danno critico Dai ti prego Non ti distrugge La macchina di merda Corri Ma vaffanculo La puttana di tua madre Credo Credo che dobbiamo farlo Spero che almeno Avendo aggiornato La forza E la resistenza Adesso Non faccia La cogliona Proviamo quest'altro Che pure dovrebbe essere facile Speriamo Che cazzo L'ho aumentato A fare La forza E la resistenza Ditemelo voi Sì Giustamente La macchina E passata Per Mannaccia Mannaccia E adesso Entro in modalità Concentrazione Vai Che c'è Almeno questa La superiamo Perché va avanti Ma nooo Puttana Troia Possiamo prima Questi E poi ne facciamo Un'altra Annaccia La miseria Procompete Proprio il cazzo Sto Pursuit Proviamo quest'altro Scusate Proviamo quest'altro Express 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 Porca miseria Ho quasi Ho quasi Finito il mio tempo A disposizione Per giocare Devo muovermi C'è la Come la Bucati Vero Fatemelo sapere Nei commenti Perché Se c'è La voglio E va Faffanculo Una targa falsa Ahite Ecco Sarai originale Cogliatua 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 Perché Perché sono ritornati indietro Mi hanno fatto un piacere Ah no Ha preso la scocciatoia Il bastardo Guardatelo Che intelligentone Ma io sono Primo Ma Albero Di Merda Sono Primo Ancora No Bastardo Si Che Culo Sono Solo Sono Solo Non mi Ompete le Palle 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 No 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 Ti prego 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 No No Sì Via 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 Ora dobbiamo solo fuggire Da questi coglionazzi Spero che li ha contati Perché così Non facciamo un cazzo Però mi è piaciuto Devo dire la verità Mi è piaciuto Lamborghini Oh yeah Bellissima Alla faccia del cazzo Però si sblocca la McLane Ok quindi mettete mi piace se il video vi è piaciuto Su aiuta tantissimo il canale Iscrivetevi al canale Visita la pagina di Facebook Noi come sempre ci vediamo alla prossima Ciao 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 Ciao